ok siamo ripartiti c'è problemi con la linea incredibile si è fatta apposta sono fortunato proprio e vabbè vediamo un attimo funziona tutto sì vabbè andiamo sulla terra intanto e sì sembra funzionare mamma mia ragazzi mi dispiace ma è così allora ci chiedeva di andare appunto lì qua nel frattempo cosa ah non ho nessuna attività proprio maledetti a questo punto facciamo così andiamo a fare subito un assalto per fare un po' di punti ok vediamo solo cosa ci chiede è l'unica arco ok ah già ce l'abbiamo è vero teniamo il resto possiamo cambiare anche l'arco qua niente forse questo è l'unico ah sì mettiamolo va bene ah già è vero devo anche guardare se non ho perso modifiche credo di no però fammi vedere allora qua ero pieno qua le ho tutte anche qua credo di sì qui ne mancava una però era va bene vabbè è iniziato ok gli altri sono già avanti sì andiamo ok Sì, non è vero. Andiamo a salutare il collega, ciao, ti seguo. Brachion, la mente della Genesi comanda il protocollo di conversione qui su io. Dovrete addentrarvi nel Pyramidion per trovare la mente. E quando lo distruggete, staccategli il braccio da parte mia. Asher non è l'unico con un conto da saldare. Alcuni corrotti potrebbero trovarsi ancora nel Pyramidion in cerca di un'uscita. Ok, è arrivato anche l'altro. Ok. Fatto. Abbiamo anche qua le taglie dell'Oltre, mi ero dimenticato. Ok. E si va. La porta è aperta. Apri il sedano. Le caviglie. Nessuno sa cosa significhi Asher. Iniziate ad avanzare. Mannaggia ad Asher. Poi ha caricato turbo. Vabbè male. Ma bene. Corrotti che sbucano da nulla. Proprio ciò di cui avevamo bisogno. Voilà. Voilà. No, adesso è vero che dobbiamo passare attraverso sti affari. Giochi senza frontiere. Ok. E' un po' che non passo di qua. No. Mi ha rimbalzato sopra il laser proprio. Poverino l'altro da solo. Azama. Azama. Non lo so. Non lo trovo neanche a leggere. Lo leggo così in italiano. Ok. Ok. Che non è rianimata. Oh. Che cura Mi spara Ok Sono rimasti due Magari l'altro se l'è presa male Perché sono morto pure io Ok abbiamo recuperato tutto No Dai forse ho preso il giro Un po' in ritardo il giro però No Non abbiamo mai assistito alla nascita di un vecchio Non nascono come gli umani Non sono creati come gli exo Ma forse come gli insonni E il mio braccio vengono convertiti Ok No ma non lo voglio Così Ah pensavo se ne fosse Non lo vedevo più Sento proprio la differenza Era un po' più resistente Vai Dai Ok Puoi guardare le armi che adesso Avevo perforanti Adesso non le ho più Devo ricordarmi solo Di fare un bel controllo Vai giù Sono un po' con sveglio stamattina Io non li trovo i nemici Come mai Eh manca qualcuno Convinto di averlo fatto Vedì non sarà sfidabile Asher Asher non riesce a capire dove ti trovi Se cade la linea È perché sta imprecando E ha rotto il suo microfono Guarda che ho sentito Disgraziata Non ha paura a insultarmi Perché sa che lui È su io E io no Perché è il peggiore In questo momento Da fare Vai avanti Vai avanti Magari rispondo più avanti Pure io Anche se sarà Difficile Ok Qualcun altro è arrivato Asher si è appena allontanato Sta consultando Più di cinque Dei sui libri Sul Pyramidion E non so Quale stia usando Per guidarti Tirannia esistenziale Tomo 1 Negazione Identità Meccanismi di trasformazione Vex Oh mamma Ecco perché preferisco La ricerca applicata Abbiamo ancora una di queste Almeno Merda Non arriverò mai più Era entrato qualcuno Boh Buon così Ah già che sono di nuovo morto Mi cambia L'arma Come on Come on Come on Come on Come on ho ricercato fresco dov'è? ok io non ho neanche lo spettro giusto proprio malissimo stamattina eee eee vartaro se on kui morto eee Vabbè, ho sto qualcuno morto, ah di là, vabbè, andiamo, chiunque, secondo le mie proiezioni Sì, dovreste trovarvi di fronte al lago di fluido radiolare, dove sta ben fritta la mia pena No, niente lago, solo un sinistro purrone Andiamo Ok, dai che c'è il boss, ma mi è andato male questo assalto Ok Ah ok, quello si è risvegliato Non l'ha presa in pieno, ho sentito irritare fino a qua Ah, se li prendo di rimbalzo Faccio una strage con questo Allora, dai, metti fuori la faccia Allora Allora Dai Ok Anculo No Fatto Facciati È andato Ok e uno l'abbiamo fatto Adesso andiamo sulla terra E andiamo a vedere cosa ci chiede Prendiamo tutto E andiamo Ciao Allora Andiamo sulla terra Così almeno abbiamo lo spettro giusto Allora nel frattempo Fatemi togliere le porcherie qua Ah è vero che abbiamo fatto anche le taglie Così magari saliamo Quanto ci manca 10.000 15.000 No cosa faccio A casaccio vado a cercare le imprese Ok ci siamo quasi per lo stagionale E niente Ragazzi dovete aspettare un attimo No mi serve un minuto Stora subito No mi serve un minuto No mi serve un minuto Grazie a tutti. 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 Ah, questa qua forse avevo messo qualcosa di stagionale. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Chiusi in casa. Grazie a tutti. E bastonati senza internet. Povera Italia. Ok, ok. Ok, allora, abbiamo detto, no. No, figurati se c'è un tesoro. No, non c'è un tesoro. No, non c'è un tesoro. Vai, non c'è un tesoro. Vai, non c'è un tesoro. E' 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 un tesoro. Oggi è pure una bella giornata, piovesse e uno dice vabbè sto in casa così è più normale. Vedo che sia questo vero, si, ok facciamo però prima un giro di spezione, ah sui denti Ok, me lo segnalo sotto però, se è pieno. Vabbè, 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 vabbè. Bene. Posso così? Vabbè, andiamo a fare la missione allora. Lo sentivo di nuovo. No, no, sarà stato dell'Human. Chi è che mi spara? Andiamo. Andiamo. Andiamo dove va a finire, guarda che roba. Non ci vedo niente adesso che è entrato il sole nella stanza. Guarda che posto. Stavo cercando di accendere la luce. No. Ah, ok. Ok. Sono sti cosi. Andare qua sotto? Ok. Vedi, sì. Proviamoci. No. Ok. No. No. Molto male Mi avevo sbagliato strada Così? Ok Ho provato a non saltare Era proprio quello che stavo pensando Sì sì Guarda Dov'è? Più avanti Che dici? Una reliquia? Va bene Guarda che ci dà le cose da fare Aspetta un attimo Vediamo l'anteprima Ah richiede il pass però Tutto richiede il pass No Vediamo l'altro Tutti i pass Vabbè Anche questo Un culo Curiosa Ok Vediamo dove ci volevo andare Andiamo Vaglia tortuosa È un po' che non vado neanche nella forge Sono talmente tante cose da fare Dovresti giocare solo a destini Adesso c'è un po' più di tempo Vediamo È un gioco impegnativo destini Ti porta via tantissimo tempo Devi stare sempre dietro Ma Va bene Va bene Vediamo la guata Torre del seo vabbè aspettiamo di fare guarda che non me l'ha messo di nuovo e che spara tutto sto bordello guardiani i sistemi di raspodin si rafforzano attivazione torri in corso costruiamo questo satellite almeno l'ha fatto qualcuno controllo insufficiente faccio qualche mondizio torri di supporto bloccata controllo insufficiente ok Ok Oh Che stronti Ah Ok Torre di supporto sotto attacco Tirato a casaccio Ah non c'erano tutti che partecipavano attivamente Wow E allora Bene Torre di supporto bloccata Controllo insufficiente Dove sono? Vai giù Deve potenziare il mio personaggio Oh 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 Cazzo La super mi suggerisci E' vero è vero Ma stamattina sto ancora un po' dormendo Valedetti I nemici invadono la torre di supporto State allerta Oh 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 ok dovevo chiedere la pistola vabbè almeno esplodono anche questi ho capito adesso infatti stavo cercando di guardare loro cosa facevano queste palline tanto se non lo faccio io lo fanno loro ah questo mi sa che non è attivo lui ah ho capito va bene c'è una pallina che vola aspetta che c'ho la freccia ok 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 è arrivato l'altro e allora i nemici invadono la torre di supporto state allerta devo cambiare armamento però va bene adesso me lo faccio andare bene muoro ah si si la pallina avevo immaginato perché mi sembrava di averli vissi tirare in quella direzione vabbè ma le fasi dell'impresa l'ho fatta lo stesso tanto chissà quante volte lo farò sto coso allora vediamo cosa ci chiede forza va bene dobbiamo tornare al bunker lo stagionale è sempre lo stesso fatto? si cosa ci serve? niente dobbiamo andare al bunker c'è nessun evento in giro ma lassù non c'è mai nessuno vado subito allora devo fare di nuovo quella discesa mi sono ammazzato prima ho finito sui gradini tipo incidente da auto allora andiamo uno andiamo a ripulire il bunker sarà un lungo lavoro allora vabbè caricamento posto ok adesso vediamo cosa succede tra gisci vediamo ok ripristiniamo l'energia qua non posso prendere niente perché non ho il pass e quindi andiamo fate largo aspetta già bordello sono là sotto però fammi guardare intorno la zona nuova contatti multipli ok vediamo di collegarti questa interfaccia è così confusa prenditi il tempo che ti serve ti copro le spalle sarebbe stato un po' comodo il punto di accesso non riconosce le miei credenziali dobbiamo guardarmi la freccia guarda di là ok andiamo il culo ecco mucati lì va male ok ok ah quella merda fai gli stronzetti cazzo c'è cazzo c'è guarda lì laggiù ok ok ah mi ricorda un po' l'altro nel primo c'era un passaggio del genere con la corrente elettrica che correva qua mi sembra bisognava recuperare una palla o mi confondo con un altro gioco direttamente no c'è di nuovo problemi con la linea si e avevo appena avviato solo per vedere rispondo a gioan 98 è la prima volta che lo gioco si praticamente l'avevo solo avviato per vedere cosa era successo e poi non ho potuto giocare adesso avendo un po' di tempo comunque gioco da tantissimo a Destiny ah se sei giusto ti riferisci al primo eh si di fatto io gioco dal primo poi adesso sto portando vari giochi insieme solo che stamattina avevo voglia di Destiny via e sto aspettando Resident Evil 3 che poi mi porterà tanto tempo via hai rotto un cazzo dove sei? ecco bravi tutti a mucchio dove sei? c'è una porta che si apre il disturbo ah è vero che ci sono anche le prove è vero me ne stavo dimenticando prima o poi partecipo anche lì devo solo avere voglia e tempo sempre se non ci va il pass perché sto giro il pass non lo prendo ma credo di no poi non è detto anche l'altra volta l'ho detto e poi l'ho preso eh è rotto il cazzo ok vediamo tutto giù quindi si è bloccato tutto di nuovo aspetta un attimo che ah ok no si è verificato un errore adesso ah ok ho un problema alla luce spero che mi senti sempre ma è desorio addio se è verificato un errore eh troppo tempo mentre direi